Buon anno e ben ritrovati dalla storica gioielleria Veneruz di Castellanza. La mia società si chiama Cloquenz, che è la società di orologi. Poi abbiamo la storica gioielleria Veneruz, con gioielli di tutti i generi. Siamo qui appunto da praticamente 50 anni. Oggi insieme a caro Daniele vi presentiamo una bellissima scelta di alta gamba di orologiria. Vogliamo partire con dei pezzi importanti, che sono i Daytona, il primero. E qui andiamo a vederli un po' singolarmente. Abbiamo una bellissima porcellana, seriare R. Siccome sono cose molto importanti, magari per i prezzi chiamatici, a numeri di sovraimpressione, che vi diamo una mano e vi spieghiamo esattamente tutto. Quindi porcellana acciaio, seriare R. Porcellana acciaio oro, sempre floating, seriare R, anche questo. Poi ci è arrivato proprio ieri, giusto in tempo per la trasmissione, un bellissimo e il primero in oro, quadrante bianco, full set, scatola e garanzia. Abbiamo un prezzo veramente formidabile, siamo a 42.000 euro. Abbiamo questo sempre il primero, con il cento di cocodrillo, il suo originale. Quadrante bianco e qua, se mi aiuti tu col prezzo, mi ricordo più, 27.000, 28.000 euro. E poi abbiamo, ultimo e non ultimo, abbiamo un altro floating in acciaio, seriare L, anche questo è meraviglioso, Scala Tarchiometrica al 200. Questi sono tutti i pezzi da venire a vedere, a provare. Perché dire un prezzo è un po' sminuirli, proprio oggi vogliamo spiegarvi esattamente di che cosa stiamo parlando, sia io che Daniele che mio cugino Luca, gli aiuteremo nella scelta dei vostri orologi. Avete da permutare i vostri orologi, magari che vi hanno stancato, avete magari 5, 6, 3 pezzi, 2 pezzi, quello che volete, volete fare un upgrade, prendere qualcosa di più importante, e vi aspettiamo, oltre a questa selezione, vedrete tantissimi altri orologi. Daniele, vai tu, proseguiamo. Volevo proporvi un po' di Daytona Testa Oro, bellissimi, pezzi particolari da veri collezionisti. Partiamo col botto, questo bellissimo Daytona Testa Oro Giallo, quadrante in madreperla, ve lo metto a favore di camera, quadrante madreperla Tahiti con diamanti originali di casa Rolex, veramente questi sono pezzi da collezionisti. Proseguiamo con un altro Daytona, bracciale coccodrillo, testa oro bianco, quadrante nero, e questo ha la peculiarità di avere il movimento zenith e avere i diamanti, cosa non molto rara, cosa molto rara. E proseguiamo ancora con questo Daytona che viene chiamato quadrante Paul Newman, testa oro, quadrante, scusate, bracciale, caucciù, con questa trama però che ricorda quella coccodrillo. Sì, questo è un pellicolato, un evidente pellicolato, quindi nuovo, è nuovo del 2006, 2007. Totalmente full stickers, abbiamo un prezzo di decimenti interessante, siamo fuori 34, ma 32 mila ve lo diamo. E questa cosa particolare, lo so perché l'ho ritirato io, ha la garanzia con scritto Gold Crystal, che è proprio il colore di questo quadrante, quindi è prova dell'autenticità che il quadrante, oggi è uscito così con questo quadrante dalla casa madre. E questo è meraviglioso. Abbiamo anche il doppio quadrante bianco, volendo di questo è il primero. Oggetto molto particolare. E poi, vabbè, abbiamo visto che parliamo di diamante, abbiamo anche la stessa versione, diciamo il fratello che è uscito dopo, quindi con meccanica Rolex, non con la meccanica del primero, oro bianco, anche questo è veramente un oggio super 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 bello. Anzi abbiamo invertito, questo è il primero e questo invece è il movimento Rolex, abbiamo invertito noi. Quindi chiediamo scusa però, sono comunque uno del primero e una meccanica Rolex. Anche questo è da venire a vedere. Abbiamo comunque diverse cose. Abbiamo gli Daytona, vai tu Dani, abbiamo gli Daytona, è il primero, sia acciaio che acciaio oro. Questa referenza, una tra le più richieste, oro rosa, quadrante, cioccolato. Veramente una configurazione stupenda. Poi abbiamo questo Zenith, è il primero, acciaio oro, che è uno dei Daytona veramente più accessibili per i collezionisti, perché con cifre sotto i 20 mila euro si può portare a casa un Daytona completo Zenith. E non è cosa da poco. L'abbiamo anche quadrante nero questo, vero? Esatto, esatto. E poi abbiamo i moderni, diciamo la penultima, anzi la Teltsurzima generazione, il 106 di 520, eccolo qua, e questo è il 106, 505, anche questo è un chocolate, è uscito di produzione quest'anno ad aprile. Questo è un nuovo 2022, venite a vederlo, a provarlo, vi diamo un orologio nuovo, a un prezzo veramente interessante. Invece siamo intorno ai, questo è un Chroma Light, è del 2015, e siamo intorno ai 24.500 euro. Comunque ne abbiamo veramente tanti, abbiamo detto una scatola, tutti i full set, 22.000 euro, scatola garanzia, condizioni degli orologi sono veramente eccellenti. Ecco, apriamo una piccola parentesi, l'orologio che vedete ha 22.000 euro, e poi dite, ah ma l'ho visto uno a 20.500, sì, va bene, ma bisogna vedere le condizioni degli orologi, bisogna vedere la garanzia, la scatola, la ghiera dell'orologio come è tenuta, avete una ghiera magari a 20.500 euro, completamente massacrata, l'orologio vale molto molto meno, il bracciale come è tenuto. A volte su questi oggi qua, spegniamo magari i 1.000 euro in più, i 2.000 euro in più, ma prendiamo l'orologio in condizione eccellente, e comunque domani vi trovate il valore dell'orologio aumentare, perché l'orologio è veramente in perfette condizioni. Tutto molto importante, anche le garanzie, insomma, noi bisognavamo sempre tutto prima di comprare un orologio, che poi dobbiamo vendere a voi, quindi siamo i primi a tutelarci, e di conseguenza tuteliamo anche noi, siamo molto attenti a queste cose qua. Di fatti controlliamo anche sull'originalità e la coevità, tutti gli orologi che i quali ne entriamo in possesso, perché è davvero la cosa più importante, è vero che lo ripetiamo sempre, ma tutti gli orologi che noi ritiriamo e poi vendiamo a voi, sono tutti controllati dalla A alla Z, tramite il nostro orologiaio. Abbiamo il nostro orologiaio, che quindi abbiamo un laboratorio interno, controlliamo, revisioniamo, ripariamo tutti i vostri orologi, ve li possiamo lucidare, rimettere a nuovo in condizioni chiaramente strepitose, e la stessa cosa lo facciamo con il gioiello, abbiamo un laboratorio con dei dipendenti selezionati, abbiamo l'incassatore in casa, quindi avete da rifare montature, avete il vostro diamante, volete rifare appunto un anello, qualcosa che non vi piace più, venite qui, ve lo valutiamo, vi facciamo la montatura, volete vendere, abbiamo anche un servizio molto riservato di compro oro, compro gioielleria, io sono perito, tra l'altro vi faccio le valutazioni, volete fare solo una valutazione, che avete avuto un'eredità, e volete dividere le cose fra fratelli, sorelle, io vi aiuto, ve lo faccio gratis, quindi vi aspettiamo, lo facciamo spessissimo, ci chiamano anche i notai per farlo, e poi volete da lì dentro, noi li ritiriamo, volete tenerli, li dividete come meglio preferite, quindi andiamo avanti, Daytona oro bianco, quadrante particolarissimo, quadrante panda, questo è, strizza un po' l'occhio al, al nuovo Le Mans, esatto, difatti, i nuovi Le Mans, stanno andando alle stelle, veramente prezzi inavvicinabili, ma comunque qualcosa, forse, potremmo riuscire anche noi, a vedere, di recuperare, in tal caso, abbiamo questo, che strizza l'occhio, come diceva Mirko, ai nuovi Le Mans, col quadrante panda, i contatori, con i particolari rossi, è veramente un orologio stupendo, full oro bianco, anche questo lo proponiamo, ad un prezzo veramente competitivo, telefonateci, che qualcosa, la mettiamo sul tavolo, e la portiamo a casa. Esatto, la cosa interessante, è che adesso vi vendiamo, un detto oro bianco, a meno del listino, quindi, aprire una piccola parentesi, noi lo diciamo a tutti i nostri clienti, tanti clienti ci seguono, infatti, grazie a Dio, lavoriamo molto molto bene, è il momento di comprare, il momento di comprare, perché i prezzi, sono tornati a cifre ragionevoli, diciamo, pre lockdown, e adesso chiaramente, abbiamo subito una crescita, esponenziale, a livello internazionale, adesso sono un po' riallineati, e ricominceranno a crescere, con la giusta percentuale, che cresceva prima, il 7, l'8, 10% all'anno, quindi è il momento di comprare, abbiamo dei prezzi meravigliosi in casa, e direi che, anzi, per farvi vedere, la vera storia della nostra giovelleria, vi faccio vedere, che non vi dico, assolutamente cose inutili, questi sono due Vacheron Constantin, i Fidias, degli anni 90, venduti da me personalmente, quando ero un ragazzino, che bello, quando ero un ragazzino, e adesso qualche anno in più, purtroppo, però sono due Vacheron Constantin, scatola garanzie, garanzie timbrate dalla nostra giovelleria, con la data, cioè proprio sulla mia calligrafia, sono tornati a casa, dai nostri clienti, in condizioni pazzesche, per una volta, l'oggio si comprava un po' per andare a matrimonio, per andare in chiesa la domenica, e quindi sono veramente nuovi, incredibili, sono veramente nuovi, sono due oggetti stupendi, questo è un automatico, questo invece è un quarzo, molto massicci, quindi belli, importanti anche come grammatura d'oro, poi questa linea chic, col bracciale integrato, sta tornando molto di moda, sono veramente due oggetti, per lui e per lei, veramente, ve li diamo un prezzo, veramente ragione, diamo ancora a studiare un po' il prezzo, per essere intorno a 6.000 euro, e i 12.000, diciamo che con 18.000 euro, vedete due Vacheron, che adesso comprare ci vorranno, penso 80-90.000 euro, sì, ma Vacheron vende a cifre altissime, quindi, e avete una chicca, qualcosa di un po' particolari, veramente belli. Andiamo, proseguiamo con Vacheron, o vuoi far vedere qualche altro? Sì, vabbè, abbiamo, un'altra coppia, una coppia di Lady, vai tu Dani. Abbiamo questo bellissimo Patek Philippe Lips, modello storico della casa, con un quadrante in pietra onice, spettacolare, un nero profondo, che veramente ci si perde dentro, e poi abbiamo questo Nautilus Vintage, col quadrante blu, che è un mini Nautilus, fondamentalmente, riprende le forme, le forme più iconiche del modello, in versione Lady. Bellissimi anche questi, proposti a cifre giuste, una coppia di Lady, giuste di un marchio che non è il solito. Esatto, e poi, visto che siamo in fase di Patek, vorremmo presentarvi una selezione incredibile di Nautilus, ma, invece, purtroppo, per fortuna, abbiamo venduti quasi tutti, e abbiamo un 3710, denominato Baffetto, per la riserva di carica, che ha praticamente un po' sotto le ore 12, tutti i scatole di garanzia, oggi anche questi molto accessibili, rispetto alle cifre di poco tempo fa, quadrante nero, punto full set, e quadrante blu, full set. ne avevamo tre, due sono andati. E lo vogliamo dire che questo, proposto tra i primi prezzi mondo, difatti non so quanto tempo, ci rimarrà tra noi. Lo vendiamo a 80 mila euro, ma dovete vedere le condizioni, scatola, garanzia, condizioni veramente, da 0 a 10, direi 10, veramente. italiano poi. Italiano, tutti veramente molto, anche questo garanzia italiana, tutti veramente meravigliosi. Poi ci terrei a dire un'altra cosa, per far capire quanto la gente si fida di noi, l'altro giorno ne abbiamo venduto, uno completamente impacchettato, questo signore l'ha comprato chiuso, senza aprirlo, si è fidato di noi, si è fidato della nostra sede storica, si è fidato di Mirko, e abbiamo concluso la vendita, con un orologio completamente imballato, un Patek Philippe Nautilus 5711. Tra l'altro, un amico che ci ha visto in televisione, quindi la televisione funziona, ma sì, quando mai capiscono che sei serio, vedono qua, venite qua, vedete la struttura, magari se non ci conoscete, venite anche solo a fare un giro, poi non comprate niente, vedete dove siamo, la struttura che abbiamo, la serietà paga sempre, non siamo degli scappati di casa, con lo zainetto, ne vendono gli orologi in piazza Milano, e quindi capite esattamente, la struttura che abbiamo, la serietà, abbiamo tanti collaboratori, tanti dipendenti storici, che sono qua da una vita, dall'incassatore, nostre commesse, nostro orologiaio, Daniele è un nuovo acquisto, va veramente super super bravo, e molto molto preparato, come mio cugino Luca, che ogni tanto vedete, ci alterniamo un po' nelle trasmissioni, io Daniele, io e mio cugino Luca. Odemar? Sì. Vai di Odemar allora. Vai tu tranquillamente. Allora, partiamo con questo crono, 39 mm, in condizioni strepitose, ma non condizioni strepitose, perché è stato lucidato, proprio perché è stato conservato così, è ancora la versione, con la chiusura AP, secondo me, una delle più belle, quadrante blu, 39 mm, uno spettacolo, anche questo, proposto a un ottimo prezzo, lo proponiamo a 37.000 euro, ovviamente completo, scatole garanzia, veramente un ottimo orologio. proseguiamo con quest'altro, invece, un po' più grande, il 41, il bello di questo Royal Oak, secondo me, è il quadrante, perché tutti i Royal Oak 41, cioè, scusate, la maggior parte dei Royal Oak 41, sono quasi sempre blu o bianchi, invece, questo colore antracite, secondo me, è veramente, veramente bello, ed è un qualcosa di diverso rispetto agli altri. E poi, ultimo o non per ultimo, un altro 41, oro rosa, quadrante nero, cinturino, coccodrillo nero, per chi non volesse, magari, il tutto oro rosa, che magari per lui è un po' troppo, può sdramatizzare con questa versione, con il cinturino, coccodrillo nero. Bellissimo, veramente bello, poi si può montare anche un cinturino in cauciulo, rendete un po' sportivo, la prossima estate, cinturino particolare in cauciulo, abbiamo montato per diversi clienti, veramente, veramente bello. E poi, sempre passando la rosa, su un altro rosa, di un'altra marca, vi faccio vedere questo, otto finissimo di Bulgari, però la particolarità, che è in oro rosa, è meraviglioso, uno dei movimenti più piatti al mondo, abbiamo anche il suo fratello in acciaio, questo venite a vederlo perché, è scheletrato, sia dalla parte del punto del quadrante, sia dalla parte, vedete questo movimento, raffinatissimo, al retro, veramente stupendo. Un altro orologio nato dal mitico Gerald Genta, un orologio che ha vinto parecchi premi, per il suo spessore ridotto, la gente ha fatto grandi cose, due oggetti bellissimi, e questo usciamo a un prezzo incredibile, perché usciamo a 28 mila euro, e sono sicuro che un prezzo così basso, in giro non ha trovato. Potete andare a visionare ovunque, e vedere al posto, perché pur essendo grande, è molto piatto, vi scivola sotto la posizione della camicia, un orologio veramente... E poi è qualcosa di diverso. Sì, e questo invece ha meritato stamattina, un quadrante blu cangiante, bellissimo, anche questo riusciamo a proporlo a un prezzo veramente super, super competitivo, ha questa finitura, quasi come se fosse cromata, veramente un orologio che esce dai soliti canoni, e per qualcuno che magari ha già, possiede già il Royal Oak, possiede Nautilus, possiede Daytona, vuole qualcosa di diverso al posto, secondo me, questo è un orologio per lui. E poi, prima di passare alla selezione importante di Rolex, mi passi quel 2-2-2 di Vacheron, questo è un orologio, tra i miei preferiti, perfitto anche di Daniele, è rarissimo, è all'estratto di, purtroppo non ha più la garanzia, è un orologio molto datato, è uscito dal cassaforte, addirittura ossidato, perché è stato messo pochissimo, automatico, orologio, tra i preferiti di Brad Pitt, lo vedete spesso, piace anche a noi, non siamo proprio uguali a Brad Pitt, non siamo così belli, ma ci piace al sesso orologio, è veramente un orologio, uomo o donna, diciamo, nasce da uomo, poi però una signora, di un certo tipo, di un certo livello, può mettere, sopra che è veramente, il piacevole un orologio moderno, che l'ha rifatto uguale quest'anno, ma datato d'epoca, con questo sapore vintage, veramente chic, bellissima, dai passiamo un po' di Rolex, proseguiamo con un altro modello iconico di casa Rolex, il mitico Submariner, noi lo possiamo proporre in tutte le sue declinazioni, di fatti qui abbiamo proposto la triade del verde, abbiamo il vecchio 5 cifre, il classico Kermit, il vero Kermit, quello con la ghiera in alluminio, poi abbiamo lo Starbucks, ghiera verde ceramica e quadrante nero, e poi abbiamo il famoso Hulk uscito di produzione, che tutti vogliono. Prima di dirvi gli anni e i prezzi, vi volevo ricordare che noi, tutti gli orologi, riusciamo a venderveli anche attraverso il nostro servizio di finanziamento, tramite una tra le migliori case che fa finanziamenti, lo proponiamo attraverso un massimo di 30.000 euro, con un massimo di 60 rate mensili, così anche chi vuole veramente portarsi a casa un orologio, che magari anche se dovesse avere i fondi, ma non vuole esporsi, fa il suo finanziamento, viene qua in 5 minuti, ci porta i dati, ci porta la sua carta d'identità, la sua busta paga, e va a casa con l'orologio. Ecco, lo voglio dire io, il vantaggio del finanziamento, che anzitutto mai ricomprate un orologio, che non vuole tirare fuori 14.000 euro per un orologio nuovo, e me lo finanzio, ma era anche un paio d'anni, visto che non era una cifra così eccessiva, non vi accorgete neanche, è vero, ma ci sono un po' di interessi, è vero, una volta erano un pochino più bassi di interessi, però, se pensate che in 2-3 anni, la Rolex comunque aumenta quasi tutti gli anni del 7-8%, la rivalutazione comunque, c'è sempre nell'orologeria, visto che i prezzi sono bassi, e tendranno a risalire, quello che avete pagato di interessi, in un paio d'anni, in 2-3 anni, ve lo ritrovate comunque nell'aumento dell'orologio, quindi l'orologio alla fine, avete l'orologio subito, e quello che avete speso di interessi, ve lo sarete ripagato, con l'aumento di capitale del vostro oggetto, decidete di rivendere, fa 3 anni, vedete che più o meno, riprendete i vostri soldi, avete portato l'orologio gratis, e questo l'ho già visto tante volte, succede così ormai da sempre, questi sono veramente meravigliosi, vieni a vedere i quali, poi vi faccio un prezzo, ho detto 14, siamo fuori a 15, ma 14 ve lo do, questo addirittura è nuovo, ancora qualche piccola pellicola, ne avevamo in casa diversi, ma l'orologio che veramente stanno cercando in tanti, con Natale appena passato, abbiamo fatto un super lavoro, siamo veramente felici, vuol dire che l'onestà, la serietà paga sempre, vediamo qualche altro sportivo, io continuerei con un po' di Milgauss, un altro orologio fuori produzione, il bianco, esatto, il nero vetro bianco, e il nero vetro verde, questo orologio che adesso, comprate a cifre accessibili, è un orologio che comunque, tendrà sicuramente a salire, non lo dico perché sono un mago, ma perché vedo la storia dell'orologeria, se andate a vedere i vecchi Milgauss, sono a cifre veramente, veramente folli, questo addirittura bianco è tutto pellicolato, completamente pellicolato, ma oggi in condizioni bellissime, a cifre non c'è il prezzo, però insomma intorno ai 10 mila euro, giusto, 10 mila euro del bianco, 11 mila il verde, poi venite qua, vi trattiamo bene, e 9 mila e 7 il nero, sono orologi che adesso di listino, non esistono più, costerebbero sicuramente di più, tutti scatole garanzie, in condizioni veramente eccellenti, e vai, proseguite con un po' di sub, proseguiamo con un po' di sub, uno data, allora ecco qui, abbiamo un data, è uno data 5 cifre, poi possiamo farvi vedere anche un ceramica, questi qui 5 cifre, è uno data, è il classico Submariner, che veramente lo si può acquistare a cifre, ormai siamo largamente sotto i 10 mila euro, vi portate a casa un orologio iconico, un orologio leggendario, e volete fare un regalo al vostro figlio, che si laurea a questo, è un orologio che sicuramente terrà per sempre, perché è sempre di moda, sempre richiesto, è veramente bellissimo, invece qua abbiamo ceramica, anche qui abbiamo diversi, abbiamo tantissimi in casa di Submariner ceramica, venite che è una soluzione, la troviamo sempre, data, non data, poi abbiamo i vari seedweller, abbiamo i vari deep sea, veramente sui Submariner, siamo veramente... Sì, oltre alla vasta gamma, come state vedendo, di ologeria, vi ricordo che noi abbiamo una vasta gamma, gamma di gioielli, dai diamanti, bracciali tennis, orecchini, cornici, argenteria, abbiamo veramente tantissime cose, siamo specializzati appunto nella produzione, come dicevo anche prima, volete sostituire, il vostro, la vostra montatura, di qualsiasi cosa, magari un tennis, che se un po' ha lasciato andare, una vecchia montatura, che non vi piace più, ve la rifacciamo nel nostro laboratorio, vi facciamo un preventivo, vi diamo il tempo di consegna, e dopo pochi giorni avete l'oggetto nuovo. Nel nostro laboratorio sotto, abbiamo anche, come vi dicevo, la parte di compro oro, dove valutiamo i vostri preziosi, ai massimi livelli, qualcosa vi piace, volete tenerlo, tenetelo, magari lo fate rimodernare, che non vi piace, lo mandiamo in fusione, e vi trattiamo super bene. Facciamo i bonifici istantanei, quindi voi uscite, ci portate l'oro, e uscite dopo 5 minuti, con il bonifico sul vostro conto corrente, di qualsiasi importo, siamo in grado di soddisfarvi, sia con gli orologi, nel ritiro degli orologi, sia nel ritiro dell'oro. E così giusto, se vedete qua, vedete l'oro, vedete anche il nostro servizio di riparazione, che proprio è a vista, quindi vedete veramente, quello che sto dicendo, è la realtà. Allora, Sky Dweller, un orologio magico, che ha prodotto Casarolis, con una meccanica brevettata da loro, è una delle più complicate, mai prodotte, questa è la variante acciaio, ghierrino oro bianco, guadalante blu, è una delle versioni più richieste, e questo invece, per chi vuole qualcosa di un po' più elegante, è un oro giallo. Orologi, anche questa è una cifra pazzesca, se mi intorno ai 21 mila euro, poi vi trattiamo super bene, ma non abbiamo solo questi pezzi qua, abbiamo anche cose simpatiche, abbiamo per esempio il topolino, oggi da 5 mila euro, sia in acciaio che in acciaio, diciamo, soddisfiamo un po' tutte le tasche, turno, graffo, meraviglioso, è l'unico dei jazz prodotto, con la ghiera girevole in oro bianco, questo è full set, questi no, perché sono dei vintage, quindi non sono full set, però hanno la nostra garanzia di 24 mesi, la nostra scatola, e poi abbiamo, oggi, sempre amati da me, da Daniele, come dice Daniele, oggi ho dei presidenti, i famosi dei death, ne abbiamo sia col bracciale president, col bracciale oyster, con la chiusura scomparsa, questo è un, sono due full set, completamente pellicolato, oggi da, molto sottolistino, 25 mila euro, poi comunque vi trattiamo bene nel 2007, e questo qua invece è il quadrante, quello, Lino, configurazione pazzesca, particolarissimo, questo non ha la garanzia, no, la nostra garanzia, no, scatola garanzia anche lui, no, sulla scatola dell'epoca, garanzia, oggi siamo intorno, siamo sotto i 20 mila euro, e questo, è un loro fratello, in oro bianco, con il quadrante blu, orologio d'oro bianco, e siamo su intorno ai 22 mila euro, quindi, e poi abbiamo diversi, The Just, ghieri in oro bianco, bracciale Jubilee, sia ai 41 millimetri, sia al quadrante, quello verde, un po', lo chiamano palme, per questo effetto, effetto che ha, abbiamo degli acciai oro, insomma, abbiamo veramente, tantissime cose, c'è appena entrato questo 41, ghieri in oro bianco, e diamanti, a un prezzo molto valido, 13 mila euro, era qualcosa in più, ma a 13 mila euro, va benissimo, venite a provare, oggi sono tutti i roggi unisex, quindi, e vedete soprattutto le condizioni, di questi pezzi, che vi sto facendo vedere, cosa abbiamo Dani? Possiamo, riallacciandoci al discorso, su Mariner, due super professionali, un Deep Sea, è un Sea Dweller, tra l'altro, il Sea Dweller, scritta rossa, completamente pellicolato, orologio che anche questo, non si vede sempre, noi riusciamo a proporre, un modello pellicolato, del 2000, attenzione, 2017, riusciamo a proporre, a 15 mila euro, e invece qui, sempre, per chi va ancora più, in fondo al mare, abbiamo il mitico Deep Sea, nero, anche questo, 2009, scatola garanzia, riusciamo a proporvelo, a 10 mila euro. Orologio bellissimo, chi ha il posto, importante, i nostri identi, l'hanno comprato, ci hanno detto tutti, una volta messo questo qui, non riusciamo più a mettere gli altri, vorrei un attimo, dilungarmi un secondo, sul discorso, qualità, certificazione, orologi, serietà, purtroppo, si stai scontrando, un po' da anni, e purtroppo, la qualità, dei falsi, è sempre migliorata, bisogna stare, molto molto attenti, noi siamo attenti, a questa cosa qua, della contraffazione, attenzione, che potete trovare, orologi, scatola, e garanzia, con scatola, magari originale, garanzia falsa, e orologio falso, non è più come una volta, che lo prendevamo in mano, e vedevamo subito, l'orologio era falso, mi mandavate una foto, su whatsapp, e vi dicevo che era falso, no, nessuno è più in grado, anche perché, spesso ci sono orologi, esternamente originali, internamente falsi, ma anche chi non ha l'orologiaio, e lo apre, vi garantisco, che fanno dei falsi, ormai con le meccaniche marchiate, quindi, o siete veramente, super esperti, avete decenni di esperienza, o se no, veramente diventa difficile, riconoscere un orologio contraffatto, noi tutti i orologi che ci arrivano, anche quelli nuovi, li apriamo, li controlliamo noi esternamente, controlliamo le garanzie, e poi il nostro orologiaio Angelo, li apre tutti, e li controlla, vi garantisco, vediamo dei falsi, sempre più belli, quindi, attenzione, a dove comprate gli orologi, l'amico dell'amico dell'amico, ma sei un mio amico, guarda è, come fosse mio fratello, sì, ma non sai cosa ha comprato lui, il problema è mai lui in buona fede, ma voi vi trovate fra tre anni, che venite da noi a vendercelo, e avete in mano un falso, pagato 15 mili euro, 20 mili euro, 30 mili euro, e nessuno vi darà più indietro i soldi, perché dopo tre, quattro anni, chiaramente, anche i nostri colleghi, sono rifiutati, di rendere i soldi, ma perché? Perché c'è sempre il dubbio, poi, che magari, voi avete fatto qualcosa, avete cambiato, in realtà no, quindi compratelo, sicuri di comprare l'originale, noi diamo lo scontrino, diamo la nostra garanzia, noi siamo qua da 50 anni, non scappiamo, invece purtroppo, commercianti con lo zanetto in mano, dopo due anni spariscono, e grazie a rivederci, quindi, attenzione, magari 500 ore in più, avete pensato di farla fare, pagando 500 mili euro in meno, in realtà avete preso la fregatura del secolo, quindi, attenzione a dove comprate l'originale, anche degli ottimi colleghi, che magari non hanno un laboratorio, però si avvalgono di laboratori esterni, e allora va benissimo, però, fatevi rilasciare delle garanzie, abbiate la certezza, che state comprando un prodotto originale. Poi, c'è da dire che anche noi, avendo l'orologio fisso, è una cosa che facciamo in diretta, non ci lasci l'orologio, lo facciamo controllare, no, noi abbiamo l'orologio, che in diretta, vi dice se l'orologio è buono o no. Esatto, volete venire qui, comprate l'orologio da noi, non siete sicuri, io vi faccio aprire l'orologio dal mio orologiaio, li fate una foto a meccanica, la mandate a qualunque vostro orologiaio, e così siete tranquilli, che uscite con un prodotto certificato, e garantito che sia originale. Acciaio oro? Sì. Vai. I mitici sul Mariner, 5 cifre acciaio oro, che tanto andavano di moda, che tanto stanno tornando, anche perché adesso si possono acquistare, a cifre molto molto ragionevoli, sono sempre belli, non si ha l'orologio completamente in oro, che magari non è proprio il periodo adatto da far vedere in giro, qui abbiamo un acciaio oro più portabile, molto ben bilanciato, abbiamo tre versioni, una versione vintage jeans, che è questa qui, con il quadrante che è virato in modo spettacolare, e poi abbiamo il classico purple, e poi un acciaio oro nero, tenuto veramente in condizioni perfette, chiusura, ah non era questo, scusate, sono andato al contrario, tenuto veramente in condizioni perfette, veramente bracciale serratissimo, anche questo lo possiamo proporre, ha una cifra molto molto competitiva, intorno ai 10-11 mila euro del 2013. Sono tutti scatole garanzia, tutti completi, come dicevamo prima, tutti controllati, tutti revisionati. Sì, sì, sì. Proseguiamo con un altro brand storico, dell'alta orologeria, che ci sta regalando veramente tante soddisfazioni, cioè Cartier, in questo caso parliamo del Santos, un orologio che sta performando tantissimi, ne stiamo vendendo veramente tanti, noi bene o male abbiamo sempre quasi tutti i colori e le misure, qui potete vedere un bellissimo Santos misura grande blu, ma abbiamo anche la media, e qui abbiamo un altro bellissimo Santos con la cassa nera. La cosa che vorrei dirvi è che tutti i Santos moderni hanno il barracciale intercambiabile, per esempio questo con un solo clic, senza portarlo dall'orologiaio, si monta il bracciale in coccodrillo e sembra di avere due orologi al prezzo di uno. E veramente, piuttosto che comprare i soliti noti, tanti nostri clienti stanno virando verso il Santos, perché è veramente molto molto bello. E a cifre ragionevoli tra l'altro. Tra l'altro, ah, ho dimenticato di dirvi, che sono nuovi 2023, e tutta la gamma che abbiamo qui in boutique, quindi anche il bianco e anche il verde, che è stupendo, li proponiamo tutti sotto al listino, e sono nuovi. Esatto. Proseguiamo con un altro marchio elegantissimo e storico dell'alta orologeria, cioè Jäger Lecultre. Abbiamo qui il reverso squadra, anche questo ovviamente storico per via della sua cassa basculante, che si gira su se stessa. Abbiamo altri due modelli, questo che una volta era il modello uomo, adesso può utilizzarlo sia l'uomo che la donna, in acciaio e oro, e abbiamo una versione Lady piccolina, ma non è al quarzo, attenzione, a carica manuale, che di solito questi qui sono tutti al quarzo, questo qui invece è meccanico. Ovviamente la sua peculiarità è questa, cioè quella della cassa basculante, creata per i giocatori di polo, così non spaccavano il quadrante durante le loro partite. Esatto. Molto belli. Proseguiamo sempre con altri marchi storici, cioè Breitling, marchio dedicato al mondo dell'aviazione. Abbiamo qua il Cosmonaut, il Navi Timer e un altro Cronomat. Orologi stupendi, che a cifre molto ragionevoli, si portano a casa veramente orologica, hanno scritto pagine di storia dell'altoorologeria. Il Navi Timer, stupendo, orologio che ho usato veramente in guerra dagli aviatori, orologio un crono che attraverso tutti i suoi numeri riuscivano a... lo usavano per praticamente scrivere e disegnare le rotte. Veramente orologi che hanno una storia molto, molto forte. Usato da tutte le patuglie acrobatiche del mondo. Esatto, esatto. Questo qui 2022, stiamo anche qua largamente sotto al listino, lo proponiamo a 7.000 euro. Invece questo, orologi bellissimi, intorno ai 4.000 euro vi ho fatto un regalo ed è un orologio stupendo. Veramente, molto, molto bello. Possiamo proseguire, per esempio, con un altro marchio, Panerai, orologio che ha origini in Italia, orologio usato dai nostri sommozzatori all'epoca della Seconda Guerra Mondiale. Anche questi, orologi storici, anche questi che fanno parte dell'altoorologeria. Molto, molto belli. Per chi ha un polso importante, questi sono i loro orologi. Ci abbiamo anche in oro rosa. Sì, abbiamo anche un modello in oro rosa. La misura, perché è un polso molto, molto importante. Di un'eleganza raffinata, questa. Oro rosa, quanto è cioccolato, carica manuale. Bellissimo. Da vedere al polso, siete un polso che merita una misura del 47 mm, questo è veramente bello. È in 2016, ma è stato messo veramente, è come nuovo. Siamo a 16.000 euro sotto il listino. Qualcosa donna di particolare, ecco, belli questi. Sì, abbiamo questi che sono bellissimi. Questo sia da donna che da uomo. Questo lo facciamo vedere perché è molto, molto bello. Un dual time, cassa oro bianco, diamanti factory di Cartier. La peculiarità è che ha due calibri a carica manuale, cioè non è la versione quartz, orologio rarissimo, veramente solo i veri collezionisti veramente capiscono la bellezza di questo orologio e la sua straordinarità. Poi abbiamo qua un bel Cartier Panther, anche questo nuovo, riusciamo a proporlo sotto al listino, nuovo 2023, tutto pellicolato. A proposito dei nostri signori, delle nostre ragazze, vi ricordiamo che noi abbiamo un'altra società, sempre nel mio palazzo, nella struttura storica, dove trattiamo borse, borse di seconda mano, borse nuove, le marche più importanti, da Chanel, Hermès, Gucci, Prada, abbiamo un po' tutti i marchi, venite a trovarci, quindi cercate un regalo, abbiamo gli orologi, la gioielleria e le borse, quindi troverete nello stesso punto, nella nostra struttura, le tre società per accontentarvi un po' in tutto. Volete vendere una borsa, comprare un'altra, facciamo anche questo servizio. Non tutte le borse ritiriamo, perché cercano solo di tirar cose di un certo livello, però se viete qui, capite cosa stiamo parlando. Certo. Cosa vai? Andiamo su, faccio qualche Rollis. Sì, facciamo qualche sportivo. Rollis non manca mai, d'altronde, è una marca storica più conosciuta e più comprata in tutto il mondo. Questa è una selezione di Explorer 2, veniva messo vicino per farvi vedere la differenza di misura, questo è un 40 mm quadrante nero, loggio che comprate, ma è a cifre veramente eccezionali, molto molto sotto i listini, perché questo è un ogio da 8500 euro, scatola di garanzia, questo siamo intorno ai 9500, quadrante bianco, già versione 42 mm, abbiamo anche il quadrante nero, eccolo qua, 2019 è nuovo, ma indossato, siamo a 10,5 mm, abbiamo il famoso, quello che chiamano una volta litogami, 36 mm, l'abbiamo sia nuovo 23, sia di secondo posto del 2003, un ogio bellissimo, un ogio uomo, donna, è l'unico sportivo 36 mm di casa Rolex, indossato, è veramente, veramente, molto, molto bello, e poi, altro ogio stupendo, a cifre super ragionevoli, Yacht Master, questa è la referenza fuori produzione, perché ha la ghiera in platino e il quadrante in platino, eccolo qua, e siamo intorno ai 10 mili euro circa, questo è il suo fratello maggiore, 44 mm, ghiera in platino, completamente in oro bianco, eccolo qui, si vede bene, ha una cifra che superi 40 mili euro di listino abbondantemente, noi lo proponiamo a 28 mili euro, scatola di garanzia, garanzia italiana, condizioni veramente da 10, dovete vedere, è un cubo d'oro bianco, è un cubo d'oro bianco e platino, sì, veramente, veramente stupendo, e poi Yacht Master comunque ha sempre fatto, nel Rolex ha sempre fatto questa serie di Yacht Master, questo è raro, una configurazione rara, in oro giallo, anche questo scatola di garanzia, con quadranti madreperla, taitiana nera, vi ricordo che tutti i Rolex prodotti con quadranti particolari, in pietre dure, in madreperla, quanti speciali, negli anni tendono sempre a salire moltissimo di valore, passando sempre, dal giallo all'oro rosa, GMT, questo è un orologio mai indossato, del 2021, siamo intorno ai 36.500 euro, ampiamente sotto il listino, condizioni, ripeto, nuovo, venite a provare, un orologio che sta bene sia da uomo che da donna, tanto l'oro rosa, uno dice, è un po' appariscente, no, perché comunque se lo provate al posto, l'oro rosa si spalma molto col colore della pelle, dovete proprio provarlo per capire di cosa sto parlando, e poi vabbè, GMT, cioè sono veramente dalle configurazioni, li strappano dalle mani, non riusciamo a averli, li vendiamo, li abbiamo sempre tutti, abbiamo dal Batman, al Pepsi che dicono, esca di produzione, per problemi di, di ghiera, non riescono più a fare questo tipo di ghiera, comunque magari poi invece ci riusciranno, perché casa Rolex è mitica, e ci riuscirà sicuramente, e poi abbiamo il famoso mancino, così, eccoli qua, primo roggio di casa Rolex prodotto con la corona, appunto per i mancini, al contrario, vedete che la corona è di qui, nei Rolex normali, dall'altra parte, quindi questo è nuovo, scatole garanzia, questo è un secondo polso, questo è nuovo, un Pepsi nuovo, uno degli ultimi prodotti nuovi, nuovamente li troviamo usati, ma questo è nuovo, è il famoso Batman, anche qui ne abbiamo venuti tutti i prezzi, dai 14,5, 20, c'è veramente tantissima, e questo è un GMT Master, invece, uno, diciamo, le 5 cifre, la referenza, 16,700, anche questo scatole garanzia, in condizioni eccellenti, siamo fuori 10,5, ma 10.000, ve lo do, 1.198, veramente, tutti tenuti, come li vedete, in condizioni, veramente, veramente bellissime, vuoi far vedere un po' di cose particolari, abbiamo qualcosina ancora da donna, anche da donna, quello, il 24 d'oro bianco, abbiamo qualcosina da donna, abbiamo questo, incantevole, Cartier di Venn, sempre, con diamanti factory, di casa Cartier, una forma particolare, ma molto, 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 bella, e che esce anche questa fuori dai soliti canoni, dell'orologeria, poi abbiamo un 24 in oro bianco, anche questo con diamanti, anche questo strepitoso, e un piccolino, Cartier, Tank, français, in oro giallo, anch'esso con diamanti factory Cartier. Sì, questo è un'orologio ormai di listino, super i 32 mila euro, noi lo vendiamo a meno della metà del listino, scatola garanzia, un'orologio super chic, volete qualcosa un po' di diverso dal solito, infatti io dico sempre, questo è un di Vendono bianco, diamanti originali montati dalla casa madre, scatola garanzia, però diamo il prezzo di un Dejust basico da donna, quindi, sicuramente Dejust più facile da portare, però, avete un'orologio, comunque da tutti i giorni, ormai i diamanti sono sdoganati, potete metti tranquillamente, non dà neanche troppo nell'occhio, perché comunque è una forma particolare, non tutti la conoscono, è il tenditore, veramente tre pezzi super belli, vi ricordiamo ancora i finanziamenti, vi finanziamo tutti i nostri oggi, fino a 30 mila euro, con un massimo di 60 rate mensili, volete fare solo due anni, fate due anni, tre anni, tre anni, quale volete voi, venite voi, facciamo un preventivo, in cinque minuti vi spieghiamo tutto, e se è tutto a posto, a volte anche in 24 ore, ci erogano il bonifico, e voi potete venire qua, ritirare l'orologio, mettere quello al polso, è una formula che magari inizialmente, può sembrare un po' particolare, ma è come comprare una macchina con leasing, con i finanziamenti, ormai le macchine, quasi ti obbligo di finanziare le macchine, è la stessa cosa, solo che qui avete un orologio, che lo comprate, come dicevo prima, lo avete al polso, fra due o tre anni, avete finito di pagarlo, varrà sicuramente minimo, quanto lo avete pagato, se non di più, vi ricordiamo poi il servizio Comprooro, nel nostro laboratorio, venite proprio a trovarci, che è facile parlare, ma poi i fatti sono quelli che contano, vedrete che struttura abbiamo, struttura che siamo qui da 50 anni, da 74, quindi quest'anno compiamo 50 anni, se siamo qui da sempre, ci sarà un motivo, non ho mai tradito nessuno, ma qualcuno può essere arrabbiato per qualcosa, non sappiamo perché, però noi siamo sempre qui, però noi siamo sempre qua, no scherzo, ovviamente diciamo, la mia famiglia ha sempre trattato bene, la clientela, tette che io ho avuto la fortuna, di continuare, sia con la gioielleria, perché comunque sono gemmologo, sia con gli orologi, trattando bene i clienti, seriamente, non creando mai problemi, ma soprattutto dando sempre prodotti di qualità, abbiamo clienti che dopo 50 anni, io ero un bambino, e venivano qui, e si ricordano di me il bambino, vengono ancora qua, io qualche anno in più, loro un po' di più, sono diciamo molto anziani, però è bello, perché rivederci dopo tanti anni, vuol dire che la serietà, in questi anni, ha pagato, poi non abbiamo mai voluto spostarci di qui, Castellanza, via Marconi 23, io adesso ho rifatto tutto il palazzo, ho rifatto gli interni, abbiamo creato una struttura, veramente, e poi i nostri collaboratori, la cosa più importante, tutta gente seria, di qualità, vedrete che, sarete serviti, con professionalità, serietà, sincerità, un po' da tutti, quindi, vi aspettiamo, Cartier vuoi far vedere il calibre? Certo, raramente Cartier, propone orologi, da un diametro, importante, invece questa volta, ha voluto soddisfare anche chi ha polsi belli seri, belli importanti, ha proposto questo orologio, Calibre, che è forse l'unico diver di casa Cartier, noi lo abbiamo, sempre scatole garanzie, del 2011, lo proponiamo a 7000 euro, orologio, anche questo, che non si vede sempre sui polsi, per chi vuole qualcosa, vuole essere qualcosa di diverso. vi ricordiamo che potete portarci i vostri orologi, non siete obbligati a comprare, vi facciamo le valutazioni, volete vendere, perché magari, giustamente, avete trovato la casa della vostra vita, volete monetizzare un po' di orologi, ve li compriamo, ve li valutiamo al momento, decidete di venderci, bonifico istantaneo, se andiamo d'accordo con il prezzo, noi li compriamo, diciamo, la vostra collezione, o in parte, avete qualche orologio, per esempio, che, dite, guarda ma Mirko, questo orologio qua, caspita, pensavo di prendere un po' di più, e dico, guarda, va bene, di più magari non riesco a dartelo, ma, potete lasciarcelo in contovisione, cosa vuol dire contovisione? vi facciamo un contratto, che portate via firmato da me, tanto non scappiamo, seguite a 50 anni, e sicuramente non scappiamo per un orologio, ve lo lasciate qui, lo mettiamo su tutti i nostri social, quindi, Instagram, TikTok, le varie piattaforme dove vendiamo orologi, nella nostra vetrina, che comunque è una vetrina che funziona molto, nel nostro sito, invece che 20, voglio prendere 22 mila euro, va benissimo, noi ci accontentiamo, tanto orologio non lo paghiamo, ci ho lasciato in contovisione, e spessissimo, comunque vi garantiamo che gli orologi ve li vendiamo, vedete, il nostro giro d'affari, capite che se ci date un orologio, certo, se non giocare, 24, un po' te li chiederci 25, perché siamo fuori mercato, ma anche per voi, teniamo un orologio qua in vetrina a fare la polvere, però se troviamo un accordo giusto, con una cifra ragionevole, vedrete che il vostro orologio, finisce sul posto di un altro, e a voi il bonifico sul conto corrente, attraverso tutti i nostri mezzi, come questa televendita per esempio, siamo molto forti appunto con le televendite, siamo molto forti su Instagram, su TikTok, ci seguono tantissimi clienti seri, e devo dire che abbiamo una clientela, magari un po' diversa da altri, perché noi siamo seri, arriva gente seria, ecco, l'ho detto, e quindi, ognuno attira quello che è, ognuno attira quello che è, proseguiamo, vediamo qualcos'altro, un altro brand che oggi non abbiamo citato, è proprio Tudor, che fa parte della branchia Rolex, io dico sempre che sono, nella loro fascia di prezzo, sono i migliori orologi da comprare, perché davvero con 3.000 euro, 4.000 euro, si portano a casa degli orologi super validi, e degli orologi che mantengono il valore, per esempio, io sono appassionato di tutti i marchi dell'orologio, ma se prendiamo Longino Deberhard, orologi che costano 3.000 euro, bellissimi, poi rimessi nel mercato, è difficile che le gioiellerie li acquistano, invece qua abbiamo, per esempio, questo Tudor Black Bay 41, 3.000 euro, orologio fantastico, che nonostante costa 3.000 euro, terrà sempre il suo valore, voi vi stufate, qualsiasi gioielleria, anche noi, perché visto che le abbiamo qua, le ritirano, e veramente non perdete i vostri soldi, e con una cifra, tra virgolette, abbastanza bassa, si porta a casa un orologio di lusso, valido, e che ha mercato, come anche questo qui, per esempio, nero, che è molto molto particolare, per chi vuole essere qualcosa di diverso, un'altra, sempre in linea Black Bay 41, cassa in ceramica nera. No, vorrei solo dire, un prodotto di Longinè, per due grandi marchi, io tra l'altro ero concesso nel Longinè, ho venuti anche tantissimi, quindi sul nuovo, chiaramente comprate, comunque sono degli ottimi orologi, e prezzi buoni, noi parliamo sempre del secondo polso, quindi, che nessuno se la prenda male, no, no, certo, noi parliamo sempre di secondo polso, quindi, lo sanno tutti, che Tudor ha un grande, grande rivendibilità del secondo polso, altri marchi, come Longinè, e tanti altri marchi, nel secondo polso, purtroppo, noi per esempio, non li compriamo per scelta nostra, poi però, chi li tratta, sono due ottimi marchi, e ha ragione comunque Daniele, su Tudor, esempio, questo è un oggio d'epoca, il famoso albino, Big Block, è un oggio che costava, negli anni, pochissimo, adesso si è rivalutato veramente tanto, poi Daniele è veramente forte su queste cose qua, se venite qui e parate con lui, magari su alcune cose, dove magari io e mio cugino siamo più preparati su altri oggetti, lui è molto forte, preparato anche sui Tagoya, sui Tudor, ha una grandissima passione per questi marchi, vi spiega esattamente tutto, anche sugli Omega, è molto forte, Longines, no, è Longines, adesso mi è rimasto in mente Longines, EVC, bello con l'EVC, bellissimo, allora, anche qua, EVC, abbiamo, il mitico portoghese, quadrante bianco, ovviamente, anche questi orologi scatole garanzia, tutti completi, questo EVC portoghese, del 2012, completo, come ho detto prima, lo proponiamo a 6.000 euro, orologio che di listino va, forse a 9.000, qualcosa del genere, molto di più, come anche questo, un orologio, che è del 2009, completo, scatole garanzia, proposto a 7.000, ma anche questo qui ha un listino, famoso Leonardo da Vinci, che prima volta era rotondo, adesso ha fatto questa forma, tra l'altro bellissima, secondo me, a cifre, veramente eccezionali, e comunque ci sono i cultori, di questi orologi, ci telefonano sempre, ognuno, ogni orologio ha il suo posto, devo dire che a Natale, è successo che, tanti nostri clienti, si sono fatti il regalo, per loro stessi, e hanno comprato, un sacco di prodotto, tipo Tudor, i WC, Jäger, Vacheron, qualche patechino, magari vintage, comunque con pochi soldi, compri un pezzo, veramente interessante, abbiamo ritrovato altri due, visto che prima parlavamo di Santos, sono due Santos nuovi, per far vedere la differenza, tra un medio, che è uomo o donna, questo è un 40, magari non so se si vede, in camera, ma è verde, ma lì in foto, in camera, si vede la più blu che verde, ma in realtà è verde, e ha il suo cinturino dentro, in cocodello verde, e tutti e due automatici, questo è la misura più grande, tutti i nuovi, addirittura impellicolati, siamo sotto il listino, diciamo che qui comprate, con circa 7000 euro, un orologio nuovo, scatole garanzia, che vi va a diversificare, un po' meno impegnativo, di un altro orologio, che magari diventa un po' più spesso, poi i Santos sono anche più piatti, quindi un po' va sotto la posizione della camicia, sotto il maglione, facile da portare, sia da uomo che da donna, orologio che dal 1904, è sempre stato molto 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 amato, sempre il listino, sempre ricercato, vabbè, abbiamo un po' tutto, quello che non vedete, chiedete, chiaramente per questione di tempo, non possiamo farvi vedere tutto, questa è la penultima referenza, adesso è già uscita quella nuova, l'abbiamo questo qua nuovo, 2023, ne abbiamo anche un usato, varia intorno dai 28 e 31 mila euro, il famoso panda bianco, orologio, bellissimo, come dicevo, passate a trovarci, abbiamo, questo è un autus d'oro bianco, quadrante blu, bellissimo, c'è anche il quadrante verde, adesso non ce l'ho a disposizione, che lo, ce l'ho fuori, però abbiamo anche il nuovo quadrante verde, meraviglioso, Daydette, a proposito di verde, Daydette, oro bianco, quadrante verde, si vede benissimo, oro bianco, 40 mm, è un 2019, ma nuovo, no 2020, nuovo ma indossato, orologio con mai pagate, più o meno pagate a listino, e poi una chicca, che non vedevo da tantissimo tempo, rarissimo, è un Submariner, in oro giallo, quadrante originale, in diamanti, se vedete, è una configurazione veramente rana, ne trovate pochissimi in giro, ed è un orologio che siamo intorno, 40 mila euro, praticamente meno del listino, dovete provarlo veramente bello, possiamo anche trasformarlo con un cinturino in cauccio nero, manteniamo la chiusura in oro sotto, e ecco, anche queste cose qua, avete il vostro Submariner, avete il vostro Daytona, volete mettere un cinturino un po' diverso, volete svecchiarlo un po', abbiamo in casa una serie di cinturini colorati, vedete qua 5 minuti, ve lo montiamo, ve lo mettiamo in misura, con il vostro posto, e con 50 e 60 euro, avete il orologio completamente diverso, cambiamo il look, cambiamo il look, diamo una pettinata all'orologio, e vai Dani, abbiamo qui, questo bellissimo giro al perego laureato, un marchio super storico, e super prestante, e super di lusso dell'orologeria, riprende il nome dal famoso film di Dustin Hoffman, quindi se ci fosse qualcuno in ascolto, con l'Alfa Romeo, o Spider, che volesse anche l'orologio, può fare la combo del film in laureato, bellissimo, veramente, rosa, una cifra, veramente ragionevole, perché lo possiamo dare a 25 mila euro, scatola garanzia come nuovo, orologio di tutto rispetto, orologio di una bellezza, un po' forma, che strizza l'occhio, qualche altra marca, veramente, veramente, magnifico, poi è un blocco d'oro, guardate, che cassa che ha, è da provare al polso anche questo, perché è super sci, volete diversificare, avete tante orologie, volete cambiare qualcosa di particolare, questo è veramente, volete fare un bel regalo, vostro figlio che si è laureato, gli fate un super super regalo, che si trarà per tutta la vita, orologio senza tempo, può metterlo chiunque, e vuoi prendere magari, anche quell'offshore lì, per posti un po' importanti. Questo Royal Oak Offshore, anche qui, per chi volesse iniziare a entrare nel mondo Odemar, credo che la linea offshore, sia quella magari più accessibile, sia veramente con cifre, un po' più basse rispetto ai classici Royal Oak, ci si può iniziare ad entrare nel mondo Odemar, indossare pezzi di tutto rispetto, e pezzi dell'alta orologeria. Se magari avete un Dejust, che vi è un po' stufato, un altro orologio, che vi è un po' stufato, venite qui, lo date dentro, ci date la differenza, e portate a casa un pezzo, veramente di altissima gamba, se poi avete un polso importante, questo è un orologio, veramente, veramente magnifico. E poi ripeto, magari avete, tre o quattro orologi importanti, ma volete uno ancora più importante, venite qua, vi facciamo un preventivo, e magari vi trovate, avere in mano la stessa somma, e comprate un Patek, che magari è nei vostri sogni, magari un Nautilus, un Aquanaut, a volte magari uno dice, ho quattro orologi, tanto non li metto più, o li metto poco, non lo voglio di cambiarli, ne voglio uno importante, tantissimi nostri clienti fanno così, venite qua, prendete uno dei Pighet, un Patek, un Rosi del Tonador, qualcosa di più, un po' più, impegnativo, che dia lustro, anche al vostro posto. Fanno un upgrade. Sì, sì, questo vi aspettiamo, quindi portateli qui, li guardiamo, e vi valutiamo tutto, tutto al volo. Vi ricordiamo poi, il nostro servizio ancora, di Comproro, a volte avete in casa dell'oro, non si vede neanche di averlo, io e dei clienti vengono qui, si trovano 10 milioni d'oro, 20 milioni d'oro in casa, e rimangono stupiti, perché magari li hanno nei cassetti, buttati lì, magari anche catenine rotte, cose che non mettete più, magari degli anni 90, 2000, cosa un po' fuori moda, vedete qua, vendete, o comprate qualcos'altro, e non è un problema, magari vedete un marciale tennis, un orologio, o una borsa che vi piace, volete fare un orologio alla vostra moglie, oppure, come dicevo, lo pesiamo, facciamo le foto dei vostri gioielli, vi diamo il vostro foglio, con quello che avete venduto, bonifico istantaneo, quindi questo è molto importante, uscite con i soldi sul conto corrente, volete l'assegno, facciamo l'assegno, tanto non scappiamo, però, se avete la possibilità di ricevere il bonifico istantaneo sul vostro conto, avete in mano un telefonino, in tempo reale, vedete sul telefonino, il bonifico dal nostro conto accreditato, sul vostro conto corrente, quindi massima trasparenza, massima sicurezza, diciamo gli scappati di casa, truffaldini, non venite qua a venderci l'oro, perché non ve lo ritiriamo, ve lo dico in faccia seriamente, quindi zanzavari, da noi non venite, perché non entrate, io sono uno che chiamo i carabinieri facile, quindi non venite qui, avendoci rubato, cose strane, ve lo dico, così evitiamo il problema, fin dalla fonte, vero Daniele? Esatto, chi mi conosce lo sa, io sono che ha la chiamata facile, quindi, da me è solo gente seria, andate da altre parti, da noi, se avete idee strane, non venite per favore, evitiamo problemi in due, magari più voi che noi, quindi poi vi ricordo appunto, borse, borse importanti, alta gioielleria, avete dei, ah sì, abbiamo anche un servizio, comunque di, adesso li facciamo vedere, ma immaginavo già lo sapeste, abbiamo cinturini, di tutte le colorazioni, per i vostri orologi, abbiamo se in cocodrillo, in pelle normale, ve li facciamo su misura, abbiamo gli spezzoni, per i leitona, di varie colorazioni, non c'è il colore che vi piace, volete abbinare un colore, alle scarpe, sul vostro orologio, ve lo facciamo, non c'è nessun problema, e poi adesso, ce ne sono rimaste pochissime, perché a Natale, mi avete veramente tante, abbiamo le famose, Time Up, sono queste letterine, di questi miei amici, che hanno prodotto, vanno montate sui Rolex, sia sui cinturini Oist, che sui cinturini Giubilè, ve li fanno anche, con la vostra, la lettera personalizzata, anche i simbolini, da abbinare, il Batman, l'Ulc, vi fanno anche su, richiesta personale, il vostro logo, costerà un po' di più, perché ha fatto lo stampo, è una cosa più complicata, però, volete fare qualcosa di particolare, li fanno sia con diamanti, con oro bianco, oro giallo, oro rosa, le fanno anche senza diamanti, che chiaramente costano molto, molto meno, e venite a vederle, perché personalizzate il vostro orologio, con le iniziali del vostro nome, cognome, fidanzato, fidanzata, sono veramente, veramente una cosa, molto molto carina, abbiamo anche queste letterine, che si appichano, e si tolgono, velocemente, quindi, l'orologio non viene assolutamente rovinato, e con pochi centriadiero, fate un regalo, unico, unico veramente, anche perché è un brevetto internazionale, si chiama Time Up, e poi venite qui, un pochino di sconto, ve lo facciamo, vi aiutiamo anche a montarla, non vi roviniamo l'orologio, quando la montiamo, siamo capaci di farlo, ok, quindi direi che possiamo salutarvi, vi ringraziamo per averci seguito, vi ringraziamo perché comunque, grazie alla Rosi, al suo staff, abbiamo acquisito una nuova clientela, arriva clientela un po' da tutte le regioni d'Italia, che ci vedono un po' in tutte le regioni d'Italia, adesso da gennaio, oltre su 74, i soliti loro canali, hanno chiusito anche il canale 13, quindi ci troverete un po' prima del telegiornale, verso le 19, 19, 20, saranno solo circa 20 minuti, se non sbaglio, Rosi, la Rosi è qua, non mi molla, mi guarda, quindi ci trovate un po' su tutti i loro canali, qualsiasi cosa avete bisogno, ci chiamate, ci sono i nostri nomi di sovraimpressione, magari non avete capito una cosa, oppure non abbiamo detto un prezzo, perché nella foga abbiamo veramente tante cose, vi mandiamo foto sul vostro Whatsapp, volete avere il roggio in più foto, vi mandiamo anche una decina di foto, Daniele, Luca, è bravissimo, mio cugino a fare foto, io sono negato, ve lo dico, è lui che fa tutto, e quindi abbiamo anche delle piattaforme, il nostro sito, comunque qualsiasi cosa avete bisogno, noi vi accontentiamo. Anche se non avete visto qualcosa qui stasera o sul sito, voi mandateci un messaggio, oppure chiamateci, se non lo abbiamo, attraverso la nostra rete di collaboratori, sicuramente vi troveremo l'orologio che sto cercando. Esatto, esatto. Vi auguro un felice 2024, tanta felicità a tutti, vi aspettiamo al nostro negozio, via Marconi 23 Castellanza. Ciao a tutti e al nostro staff, vi aspettiamo qua. Ciao a tutti e a presto.